Musica Benvenuti a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 alle 7.30 del mattino c'è la rassegna stampa con la lettura dei quotidiani, il resto del carino Corriere Adriatico, le edizioni di Pesaro allora cominciamo questa mattina, vuol dirvi che tutta la regione si sveglia e si sta svegliando in questo momento con una coltre bianca che man mano che si va verso l'entroterra aumenta, pensate che abbiamo sentito poco fa i carabinieri di Urbino che ci hanno confermato che continuano a nevicare ormai da diverse ore e lì hanno raggiunto ormai 60 cm a Urbino quindi la situazione è un po' come così, non solo Urbino ma poi tutta la regione è questa quindi con notevoli disagi per la giornata di oggi, vedremo tra poco le previsioni del tempo ma andiamo con ordine, andiamo a vedere invece adesso il Santo di oggi la Chiesa Cattolica oggi ricorda Santo Antonio Abate il sole è sorto alle 7.37, tramonterà alle 16.59 minuti dicevo il tempo, allora oggi ancora precipitazioni diffuse con il limite delle nevicate attorno ai 200 metri ed occasionalmente anche a quote più basse, le accumulate saranno moderate cioè i centimetri di neve a fine giornata sulla fascia alto collinare e montana saranno significative stazionarie o in lieve diminuzione invece saranno le temperature i venti nord orientali per domani, mercoledì 18 di gennaio la situazione migliora un po' sulla costa, anche se vedete sul Lanconetano non sono escluse deboli nevicate che poi da 200 metri scenderanno ancora di più anche se nel corso del pomeriggio questi fenomeni andranno a esaurirsi le temperature sono stazionarie per giovedì 19 di gennaio, ancora vedete tempo variabile con pioggia nella parte meridionale della costa marchigiana mentre continua a nevicare, nevicherà ancora per la giornata di giovedì nell'entroterra sugli appennini avremo ancora residui nevicate nelle zone interne le temperature minime sono in lieve diminuzione mentre le massime sono stazionari queste condizioni di maltempo continueranno ancora poi ci sarà un miglioramento comunque nei prossimi giorni allora andiamo a vedere adesso i giornali cominciamo dalla pagina fotonotizia del resto del Carlino e neve fu, questo è il titolo, imbiancata quasi tutta la provincia oggi tocca alla costa 30 cm da Urbino in su scuole chiuse e traffico in tilt queste sono le fotografie che il collage che il Carlino ha realizzato con la neve di ieri pomeriggio dunque vi fa capire quanta, considerando che ha continuato a nevicare per tutta la notte quanta ne è caduta ancora nuova questura, alta tensione, il SIUP, il sindacato deve decidere la polizia accuse alla prefettura sulla futura dislocazione degli uffici siamo a Pesaro il problema è, uno dei problemi è il parcheggio partiamo da questa notizia invece un fanese miracolato ero nel pub poco prima degli spari parliamo della tragedia del Messico eccola qua, allora la notizia la vicenda riguarda un uomo che armato ha ucciso 5 persone tra cui un italiano è ferito altre 15 di cui una in maniera grave facendo eruzione in un pub a Playa del Carmen località turistica messicana sull'oceano atlantico e c'era anche questo fanese che vedete in questa fotografia lui dice ero lì 5 minuti prima Gabriele Monopoli 41 anni che di professione fa il DJ il consulente della comunicazione conosciuto come Mono DJ ha voluto tranquillizzare tutti attraverso Facebook e ha detto guardate io sto bene mi sento un miracolato sto bene è la morte che ti passa accanto forse il mondo non è più un posto sicuro e in effetti insomma questi sono i rischi ormai che si corrono andando un po' anche all'estero ma ogni posto ormai è così nessuno escluso andiamo sulle altre pagine del quotidiano bolognese quel fascino intramontabile dei preseppi questa è la pagina 14 invece del resto del Carlino parliamo e si parla qui di tutto quello che è stato l'evento estivo scusate il natalizio quindi dal preseppi di San Marco che ha ricevuto 8.000 visite 7.000 per quello della confraternita si parla della festa di Capodanno con 2.500 persone e al teatro dove c'è stato il tutto esaurito è andato un po' così così la befana con 400 calze soltanto distribuite ma sappiamo tutti il gelo che imperversava il freddo intenso che imperversava in quella giornata del 6 di gennaio diciamo della neve neve, gelo e scuole chiuse strade nel caos questa mattina tante sono le scuole che rimarranno chiuse nell'entroterra c'è anche quella di Fossombrone che ieri sera nel collegamento abbiamo saltato però c'è anche la scuola di Fossombrone le scuole di Fossombrone attività didattica paralizzata ad Urbino e nell'entroterra chiuso il passo della Contessa i passi si sono trasformati in una trappola di gelo gioiscono invece le sciovie che naturalmente quando c'è la neve fanno il loro business ma questo è chiaro quindi questa è tutta la pagina di Urbino del resto del Carlino Alta Valle del Metauro si ha la fusione c'è un'intervista a Marco Ciccolini che è il sindaco di Urbania Ciccolini a metà del suo mandato da primo cittadino tira le somme sull'anno appena trascorso e dice no alle unioni alle fusioni solo per una questione di soldi solo per una questione di bilancio come è successo per esempio con Urbino e Tavoleto che insegnano in questo senso benvengano quindi le fusioni però dice il sindaco di Urbania benvengano le fusioni ma non si devono fare solo per questioni di bilancio poi tira fuori anche dei nomi non solo per esempio la fusione di Urbania con Peglio ma ci potrebbero essere anche altre altre situazioni che chiaramente vanno condivise e vanno analizzate bene a Cagli invece guardate c'è questo cinema multisala che è una incompiuta che sta lì da ormai parecchio tempo i cittadini si lamentano perché tra l'altro è anche in una situazione di passaggio in un punto di passaggio vicino Cagli questo cinema che è del gruppo Giometti che è ancora diverso in multisala in giro per la regione nel centro Italia è un progetto che era stato concordato con le amministrazioni del PD a guida PD nel passato che però è lì fermo ed ora questa multisala è lì come una ferita per la città di Cagli e la gente vuol sapere insomma quando e se riprenderanno i lavori per la realizzazione di questa multisala andiamo adesso invece nella pagina di Urbino del resto del Carlino il regolamento mai entrato in vigore l'ex assessore Francesca Crispini che è molto critica ultimamente ma anche perché è uscita dalla giunta che ora si trova fa parte del gruppo CUT Liberi Tutti o CUT Liberi Tutti adesso mi perdonerete ma non conosco tutti i nomi tutti i gruppi è lì la forzatura parla della Crespini parla di questo intervento dopo la procura nella vicenda per la nomina del nuovo direttore di Urbino Servizi un ruolo fondamentale che potrebbe giocarlo il regolamento dell'azienda stessa per reclutare il personale è lì la forzatura dice lei di tutto sostiene la Crespini e quindi questa è la la sua la sua visione investita col cane invece migliorano le sue condizioni un anziano sacerdote che mentre stava andando da una chiesa all'altra per dire messa a trasanni ha invaso la corsia opposta ed è finito con la macchina con l'auto contro una donna che stava passeggiando con il suo cane per fortuna migliorano le condizioni di questa signora il prete sta bene e quindi possiamo dire solo tanta paura tanto spavento e niente di più allora questa invece è la fotografia del Corriere Adriatico bufera scuole chiuse nell'entroterra coppia soccorsa sul Nerone disagio e viabilità in tilta fanno invece il Metauro il fiume Metauro fa paura mentre c'è il primo piano questa il titolo è per il linciaggio le critiche feroci anche sui social network per Marco Perugini che è il vice capogruppo del PD pesarese la sua proposta cioè quella di costituire un bando per le famiglie che sono disposte ad accogliere in casa migranti per 400 euro al mese questa proposta ha fatto il giro della città ma soprattutto del web dove sono immerse reazioni dure un vero e proprio linciaggio mediatico nei suoi confronti lui dice però io vado avanti non mi fermo e continuo la mia battaglia ci sono stati questi insulti per questo piano di accoglienza in famiglia l'esponente del PD però valuta adesso se sporgere anche querela questa è la prima pagina del Corriere Adriatico dentro naturalmente la questione della neve con la viabilità in tilta i disagi le scuole chiuse dei cili di interventi nell'entroterra ruspe e spargisale in azione questa è tutta la cronistoria anche qui vedete la neve che ha causato disagio ovunque tranne sulla costa in alto Urbino con la webcam Urbino come dicevo ci sono già 60 cm di neve queste sono invece le previsioni che pubblica il giornale le previsioni per oggi domani e per giovedì tecnici al lavoro per riparare l'acquedotto del Nerone imbiancata anche la fascia collinare il pericolo e il ghiaccio cade nel dirupo durante la bufera di neve un'odissea piobbico domenica sera nella zona del Nerone per una coppia che stava rientrando a casa sotto la neve l'auto si ferma lui scende a controllare scivola sul ghiaccio finendo di sotto soccorso dai carabinieri la moglie sotto shock la pattuglia ha trovato la donna appunto sotto shock sul ciglio della strada sono stati sorpresi purtroppo dalla bufera lui è scivolato sul ghiaccio ed è caduto in un dirupo mentre lei sconvolta ha cercato aiuto nella tormenta di neve l'articolo con tutti i dettagli sulla pagina di primo piano di Pesaro andiamo su Fano invece abbattuto il primo argine il metauro adesso fa paura allerta delle giacche verdi la piena preme pericolosamente sul bordo del lago vicini la piena del fiume metauro in prossimità della foce il deposito di rami ostacola il deflusso a Tombaccia Tombaccia è vicino Fano viviamo in un perenne stato d'ansia per il rischio di esondazione dice il presidente di un'associazione che si chiama Quedla dal fiume in effetti la situazione non è delle più rose se l'ultima barriera cedesse dicono l'acqua riversata nel fiume causerebbe un'esondazione e loro quelli di Metauriglia ne sanno qualcosa perché nel 2005 se non ricordo male nel novembre del 2005 ce n'è stata una che se la ricordano bene poi Don Presciutti Don Marco Presciutti vicario pastorale del vescovo di Fano Fossombrone Caglipergola Trasarti Don Marco in corsa per l'arcidiocesi di Ancona si fa un po' il totonomine non so quanto porti bene questa cosa ma comunque il suo nome circola come papabile per la successione al cardinale Menichelli e qui c'è tutta la ci sono tutti i nomi di coloro che potrebbero appunto prendere il posto del cardinal Menichelli Natale più un po' in ritardo ma comunque si stanno tirando ancora i bilanci e le file insomma di quella che è stata l'iniziativa natalizia di quest'anno Natale più va in archivio messi in fila numeri record proloquo e comune soddisfatti degli eventi promosse la città e le sue risorse culturali ora se si deve dimettere se si deve dimettere se il sito di Fano siamo sempre sulla cronaca del Corriere Adriatico la politica attacco del partito possibile è il PD che detta la linea tale come Ricci un anno fa ospedale di Marche Nord a Muraglia clinica privata a Pesaro il sindaco ha fallito poi dalla valle del Cesano tra emozioni e competenze l'amore vivo per il presepe ai cittadini meritevoli di San Costanzo è stata consegnata varie benemerenze civiche marciapiedi senza barriere ora disponibili 36 mila euro siamo a terre roveresche pronto il secondo stralcio di lavori il primo eseguito da volontari a scomputo della Tari l'innovativa esperienza di cittadinanza attiva resa possibile dal decreto sblocca Italia vedete qui nuovi marciapiedi senza barriere architettoniche con i volontari al lavoro e poi ancora la pagina di Senigallia siamo in chiusura soldi agli abusivi della sosta anche senza alcuna richiesta inchiesta dalla polizia municipale nelle aree a rischio non ci sono insistenze secondo la polizia ancora invece la mentele ma dal vivo nessuno ha fatto presente di minacce o di pressione per ricevere l'obolo rubate patatine e bibite per un compleanno al canile invece si sono dovuti accontentare di una piccola campanella insomma ladri ancora in azione al canile municipale di Senigallia ma il bottino veramente davvero magro mentre sempre dalla cronica di Senigallia c'è l'ultimo saluto questa mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Scapezzano per Rodolfo Bruscia che è un tecnico del gas dal cuore d'oro che si è reso e morto a 54 anni la frazione di Scapezzano in lutto per la prematura scomparsa di Dodo così era conosciuto morto a solo 54 anni a causa di un male incurabile e questa è la fotografia che lo ritrae insieme ad alcuni colleghi di lavoro andiamo sotto e poi l'ultima chiudiamo qui la nostra segna stampa rubano biancheria e preservativi sono state arrestate scoperte dalla direttrice del supermarket nei guai due diciottenni due ragazze diciottenni straniere sono finite in manette tra l'altro sorprese perché sorprese a rubare preservativi e biancheria intima al centro commerciale di via a Bagnano poi vedete l'automobile invece che è finita dentro il fosso in via Rovereto siamo sempre a Senigallia non funziona il freno l'auto finisce dentro il fosso urta contro un muretto resta ferita una ragazza direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi ricordo che questa sera alle 20 e 30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia c'è il sito internet Occhio alla Notizia punto it con gli aggiornamenti anche aggiornamenti sulla neve se poi cliccate su mi piace nelle pagine di Occhio alla Notizia oppure di Fano TV riceverete anche tutti gli aggiornamenti e quant'altro poi se volete c'è anche l'applicazione scaricabile sui market di Apple e di Android basta scrivere Occhio alla Notizia è gratis è un'applicazione che vi consente anche di fare segnalazioni ma a proposito di segnalazioni ieri dobbiamo davvero dirvi grazie perché ci avete sommersi di foto video e quant'altro continuate a farlo perché quello che voi ci segnalate noi lo verifichiamo ma poi sai poi noi lo mettiamo a disposizione di tutti in modo tale che queste informazioni che voi ci date possano essere utili anche a tutti gli altri e quindi una condivisione utile di informazioni che può a volte anche risolverci un po' la vita quella di tutti i giorni chiaramente grazie per la vostra attenzione buona giornata e a domani grazie a tutti grazie a tutti